Peugeot 3008, avete iniziato con il modello di KPR, con una vittoria, un podio intero Peugeot nella Dakar e continuate a vincere in quello che riguarda il prodotto stradale con il Car of the Year 2017. Sì, devo dire che l'hanno iniziato benissimo con la vittoria, anzi con la tripletta dei Peugeot alla Dakar 2017 poi è proseguito anche a livello commerciale con la 3008 in vendita in concessionaria. Stiamo ottenendo dei grandissimi risultati di mercato con oltre 100.000 esemplari a livello globale venduti e 13.000 contratti fatti in Italia in poco più di 4 mesi, quindi un successo di mercato ma anche un successo di critica e anche un successo che è stato coronato con la proclamazione di auto dell'anno 2017. Quindi un premio che veramente ci dà grandissime soddisfazioni di quello che è il prodotto e soprattutto di un'offerta SUV che è completa e non si limita unicamente a 3.800 ma contempla anche 5.800 che abbiamo presentato recentemente alla stampa e anche la 2.800 che è la porta di accesso al mondo dei SUV targati Peugeot. Ecco, in un segmento così difficile attualmente come quello dei SUV quando si prevede di fare un nuovo modello, di lanciare un nuovo modello ci si aspetta di avere un successo del genere? Io so che voi siete abituati a avere dei successi perché lo sport dove Peugeot è fortissima lo dimostra però avere un successo di questo genere così in un segmento come i SUV non è da tutti? È un segmento molto combattuto, devo dire sinceramente che noi eravamo ottimisti sicuramente ma non fino a questo livello. Ci ha veramente sorpresi, ci ha reso giustizia veramente di un lavoro egregio fatto da tutte le squadre che hanno lavorato sul progetto 3008 ma non solo perché nel mondo dei SUV sono tantissimi concorrenti l'offerta di prodotto è notevole e essere in grado di raccontare qualcosa di diverso è ancora più difficile se posso. L'abbiamo fatto attraverso tanti elementi fondamentali molto importanti primo fra tutti il Peugeot iCockpit che è la nostra firma per quanto riguarda l'abitacolo che ridefinisce evolvendo quello che è il posto di guida per esaltare quello che è l'esperienza di vita a bordo delle Peugeot.